buongiorno a tutti benvenuti nella mia cucina oggi prepariamo questi cornetti lievitati ma senza sfogliatura eccoli qui guardate sono morbidissimi senza sfogliatura e quindi anche più veloci da fare e adesso andiamo a prepararli insieme nella ciotola della planetaria versate 280 grammi di farina tipo 0 190 grammi di manitoba 120 grammi di lievito madre rinfrescato e raddoppiato chi non ha il lievito madre può fare un lievitino poi vi lascio le dosi giù nell'info box 50 grammi di zucchero 150 ml di latte intero tiepido iniziamo ad impastare aggiungiamo tre uova intere un cucchiaino di essenza di vaniglia io uso quello che ho fatto io vi rimango sempre il link giù nell'info box adesso iniziate ad aggiungere 160 grammi di burro burro a temperatura ambiente fatto a tocchetti mi raccomando aggiungete un pezzo alla volta non aggiungete il successivo se il precedente non è stato ben assorbito lasciate lavorare la planetaria fino a quando l'impasto non sarà ben incordato e la ciotola non sarà ben pulita ci vorranno all'incirca una decina di minuti ecco il nostro impasto è pronto ecco come deve essere l'impasto un impasto ben incordato adesso gli diamo una leggera perlatura è un impasto bellissimo morbido ma non appiccicoso adesso mettetelo in un contenitore schiacciatelo leggermente copritelo e lasciatelo lievitare fino al raddoppio a me sono bastate quattro ore e mezza guardate come ben lievitato adesso vi faccio vedere stupendo e adesso lasciate cadere l'impasto sul piano da lavoro leggermente infarinato infarinate leggermente anche la superficie dell'impasto e con l'aiuto del mattarello stendete in una sfoglia e adesso date la forma tagliate i vostri cornetti qua decidete voi la grandezza da fare io li ho fatti belli grandi fatti belli grandi e me ne sono usciti 9 farciti a piacere e arrotolate ben stretto tirate ogni tanto leggermente l'impasto e arrotolate come vedete si fanno in giornata nel giro di poche ore perché comunque non hanno la sfogliatura ecco pronto il nostro cornetto adesso ne faccio vedere un altro farciti a piacere arrotolate ecco qui e continuate così per tutto l'impasto mettete i cornetti ora su una teglia rivestita con della carta forno copriteli e lasciate lievitare fino al raddoppio in questo caso ci sono volute quattro ore mi raccomando sempre sempre al caldo quindi potete metterli tranquillamente in forno con luce accesa forno spendo logicamente una volta che sono ben lievitati spennellateli con del latte e poi subito in forno forno già caldo statico 180 gradi per circa 20 minuti eccoli qui appena usciti dal forno e adesso lasciamoli indiepidire adesso ne ho tagliato subito uno per vedere l'interno com'è vedete sono morbidissimi facilissimi da fare una leggera spolverata di grazie a tutti